Finisce sul tavolo della ministra dell'interno a Piantedosi la vicenda dello spostamento della caserma provinciale dei Vigili del Fuoco in Viale Pindaro a Pescara. L'obiettivo è quello di ampliare gli spazi della vicina università. Nel corso dell'incontro romano a cui ha partecipato tra gli altri anche il sindaco Carlo Masci è stato individuato un percorso in due fasi. In questa fase il demanio acquista dalla provincia l'immobile, lo riqualifica e soprattutto lo mette in sicurezza dal punto di vista statico e antisismico per metterlo a disposizione dei Vigili del Fuoco. In un secondo momento invece c'è la necessità di spostare la caserma in Via Lago di Campo Tosto nel momento in cui i terreni saranno bonificati e messi a disposizione del Comune di Pescara per allargare l'università perché è chiaro che l'università si deve allargare nell'ottica del masterplan che è stato approvato negli anni scorsi dal Comune di Pescara perché l'idea è di arrivare fino alla caserma di Cocco, di aprire anche un ragionamento con l'esercito per spostare quella caserma che è lì attualmente all'interno dell'edificio della di Cocco per fare in modo che l'università possa espandersi. Nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali dei Vigili del Fuoco hanno espresso preoccupazioni e resistenze al progetto. Ancora il sindaco? Ma ne abbiamo parlato con il ministro. Io dico che la pianificazione viene fatta dal Comune di Pescara, dal Consiglio Comunale di Pescara e questa è già stata fatta da diversi anni. Poi capisco anche le preoccupazioni dei sindacati, però nel momento in cui avranno la garanzia che si mette in sicurezza l'immobile, che potranno rimanere lì fino a quando non ci sarà una caserma, credo che le situazioni si appianeranno. Noi dobbiamo trovare le condizioni affinché l'università si espanda. I Vigili del Fuoco trovino una caserma adeguata e la città diventi una città universitaria ancora più importante perché noi abbiamo sempre detto che vogliamo una città Erasmus, vogliamo una città dove gli studenti di tutta Europa guardino il nostro territorio in una maniera diversa rispetto a come l'hanno guardato fino ad oggi avendo ancora più spazi universitari perché l'università si espande con gli spazi. Noi questo vogliamo garantendo anche ovviamente il lavoro dei Vigili del Fuoco.